Potrebbe essere questione di ore l'ufficializzazione del candidato sindaco del centro-sinistra in corsa alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio a Pescara. Nella sede del Partito Democratico di Via Lungo a Terno Sud questa mattina si è svolto un incontro nel corso del quale è stato indicato il nome dell'avvocato Carmine Ciofani. Il segretario cittadino del PD Moreno di Pietrantonio conferma che sarà necessaria una nuova riunione. Siamo presi 24 ore di approfondimento per le valutazioni del caso e quindi entro 24 ore daremo una concretizzazione alle candidature. Il possibile candidato sindaco potrebbe essere Carmine Ciofani? È una delle ipotesi che si sta valutando perché ancora 24 ore potrebbe essere ma adesso è presto per poterlo dire. Di Pietrantonio tra l'altro è tra i papabili candidati a sindaco che stanno riscuotendo maggiori consensi nella sfida lanciata dal quotidiano Il Centro in collaborazione con Reteotto attraverso l'iniziativa Scegli il tuo sindaco che si concluderà il prossimo 7 aprile. Moreno di Pietrantonio candidato sindaco? Moreno di Pietrantonio è sempre stato a disposizione del partito siccome adesso noi abbiamo deciso di impostare il nostro programma in una direzione che va oltre il PD per cercare di allargare e arrivare a un famoso campo aperto. Nel frattempo la candidata sindaco del Movimento 5 Stelle, Erika Alessandrini, ha già avviato la campagna elettorale e ha iniziato il tour nei quartieri della città per stilare insieme ai cittadini il programma e movimento che porterà avanti se sarà eletta. Qual è il suo sogno? Assolutamente partire dalle periferie. Le periferie sono parte integrante della città che necessitano degli interventi e dell'attenzione che si dà al centro città. Sono tutte aree della città, c'è bisogno di ricostituire quel senso di comunità e di appartenenza che deve essere di ogni cittadino pescarese, che deve sentirsi ascoltato, sostenuto, trovare sempre una risposta. Tra i pentastellati però non mancano frizioni e polemiche. Proprio oggi il consigliere comunale Massimiliano Di Pillo ha annunciato in lacrime durante una conferenza stampa tenuta in municipio di aver lasciato il movimento insieme ad altri militanti e simpatizzanti. Tutti insieme hanno deciso di aderire al progetto politico del Polo Civico che sosterrà la candidatura a sindaco di Carlo Costantini. Perché ha lasciato il Movimento 5 Stelle? Purtroppo non l'ho lasciato io. Purtroppo sono stato escluso insieme a una lista di 32 nomi di attivisti, di simpatizzanti che sono stati buttati fuori da un algoritmo di Rousseau.